www.feyyaz.com sono le lenzate che vogliamo che fai due lenzate di queste ce le andiamo a pescare alaccio alacce croca un zumbano, un zumbano che mi pare che non c'è con la canna, con la canna, con lo zumbano proprio spineggia due a la canna, con le mani, con la canna, con la canna la canna, con le mani, con la canna Sì che è un carattere di vestiti E' la mitozza la Bari mi stava tirato il coso dentro Proprio la palapa Basta Basta Olè Olè Tu ce l'hai Tu ce l'hai Bella Questa è che bella Una è una uca e l'altra è una Bella Questa è una terribile Andi a brodo Bella Sì ma te ne concedo altre due Dopodiché basta Non è ci sono tre cioccolette la mattina con le balanze Poi ci andiamo a cercare qualche pesce più seri Vai e prendi il pesce Questa insubordinazione che cos'è Questa è una Questa è una Questa è una Questa è una Dalla pancia Dalla pancia Dalla pancia Questa è una Questa è una Questa è una Questa è una Pagare fa cura c'è annodino annodino però azzeccata nella coda in maniera assurda un po' un po' un po' Sì, sì, sì.